Sono arrivata in ZService che avevo 19 anni. Ho iniziato come stagista e dopo una costante formazione interna sono diventata team leader del mio gruppo di lavoro. Sono mamma di una bambina di tre anni e grazie alla fiducia e alla responsabilità che mi dà ZService ogni giorno riesco a conciliare i miei impegni lavorativi e familiari con la possibilità di lavorare in smart working. Mi sento compresa, sostenuta e valorizzata sia come professionista che come mamma.